Storytime, evoluzione radio Bene, bene Allora Federico, appunto come dicevo brevemente durante questa intro Sei qui per parlarci di Ircus Filati, giusto? Sì Raccontaci un pochino che cos'è Ircus Filati è la mia attività di commercio elettronico Noi vendiamo filati pregiati da maglieria online, esclusivamente online Sia al dettaglio sia all'ingrosso Per filati pregiati intendo principalmente filati in cashmere e misto cashmere E altre fibre pregiate naturali Federico, ma dove nasce appunto l'idea di fondare, insomma di creare questa realtà? Beh, io lavoro in questo settore da tanti anni Ho iniziato, avevo 15 anni Ho iniziato con mio padre, con l'impresa familiare E poi insomma mio padre è andato in pensione dopo un po' di anni È andato in pensione, io ho continuato la stessa attività Noi facevamo commercio di materie prime Quindi fibre rigenerate e fibre naturali Poi ho continuato per diversi anni Finché ho deciso di chiudere l'attività tradizionale E dedicarmi esclusivamente alla vendita online Perché mi ha sempre appassionato La vendita online Mi ha sempre appassionato il mio lavoro Il cashmere Io sono innamorato del cashmere Da sempre L'ho introdotto subito Appena dopo poco tempo che ho iniziato a lavorare con mio padre Ho introdotto questa fibra Che ancora non c'era Nell'azienda di mio padre Certo E da lì è iniziato tutto Poi come dicevo ho deciso di occuparmi della vendita online Perché nel 2005-2006 Non c'era quasi nessuno che vendeva filati da maglieria bregiati online E ho voluto trovare questa avventura Che devo dire mi sta dando diverse soddisfazioni Davvero io a questo punto Federico Ti ringrazio invece per averci raccontato la tua storia E ti auguro davvero che tu possa continuare su questa strada Per tantissimo altro tempo Grazie Grazie mille a tutti E mentre noi salutiamo il nostro nuovo amico Come sempre rimanete sintonizzati Sulle frequenze di Radio Italia 5 Per la prossima grande storia Solo qui Solo su Storytime Da Ivan Marsilli è tutto Grazie Ciao Storytime Evoluzione Radio